Cari ragazzi, in questo video vediamo un po' di cose importanti che accadono durante la guerra fredda, in particolare dopo la morte di Stalin, con due importanti presidenti, Khrushchev per l'Unione Sovietica e Kennedy per l'America, ma anche un po' di fatti importanti come la ribellione e repressione in Ungheria e la situazione dei missili atomici a Cuba. Nel 1953 era morto Stalin e Nikita Khrushchev era diventato il nuovo capo dell'Unione Sovietica. Khrushchev denunciò subito i crimini commessi da Stalin, in particolare le persecuzioni contro gli oppositori e le deportazioni nei Gulag. I Gulag erano questi campi di concentramento in Siberia, quindi al freddo più totale, dove i deportati vivevano in condizioni molto dure per il freddo e per la fame. La denuncia per i crimini commessi da Stalin fu un vero trauma per tutti i suoi sostenitori in tutto il mondo, anche in Italia, che avevano creduto in lui e che non sapevano nulla di tutto quello che aveva fatto. Khrushchev quindi avvia quel processo detto della destalinizzazione, quindi un cambiamento rispetto alla politica di Stalin, iniziando dalla chiusura dei Gulag e un'attenuazione della censura del controllo poliziesco. Inizia quindi una fase anche di distensione durante la guerra fredda, cominciando a mettere anche un freno alla corsa agli armamenti. E quindi molti paesi dell'est Europa iniziano a chiedere una maggiore autonomia rispetto al controllo sovietico. Quindi scoppiano proteste rivolte in Germania, in Polonia, ma soprattutto in Ungheria. A Budapest i rivoltosi addirittura abbattono la colossale statua di Stalin. Tuttavia l'Unione Sovietica risponde con i cararmati che fanno fuoco sui rivoltosi sulla città e quindi la rivolta verrà repressa nel sangue. Nazi e altri politici ungheresi verranno imprigionati e infine impiccati. Quindi questo fu un altro duro colpo per i militanti, per i simpatizzanti comunisti di tutto il mondo. Quindi Khrushchev da una parte usò il pugno duro, represse duramente le rivolte, dall'altra invece aprì al dialogo e alla distensione verso gli Stati Uniti con quella che lui stesso definiva la coesistenza pacifica. E negli Stati Uniti dal 1960 c'era un nuovo presidente, John Fitzgerald Kennedy. Del Partito Democratico era un presidente molto giovane e fu anche molto molto amato dal suo popolo. Infatti nel suo programma si propose la lotta alla povertà con un piano di assistenza per i più poveri. Istituì corpi di pace, cioè progetti con volontari che aiutavano i paesi più arretrati in tutto il mondo. E per superare il clima della guerra fredda costruì un'intesa con Khrushchev rappresentata dal telefono rosso, ovvero questo telefono che metteva in collegamento Mosca con Washington. Tuttavia non furono tutte rose e fiosi, infatti ci furono anche molti momenti di estrema tensione. Nel video sulla guerra fredda abbiamo visto che nel 1959 c'era stata la rivoluzione cubana guidata da Che Guevara e Fidel Castro che avevano rovesciato il governo, il regime dittatoriale di Batista e avevano costituito una repubblica socialista. Per rovesciare il governo di Fidel Castro allora gli Stati Uniti organizzarono insieme a degli esuli cubani alla CIA lo sbarco della Baia dei Porci, ma questo tentativo fallì. Così Cuba installò sulla propria isola dei missili nucleari sovietici. Gli Stati Uniti se ne accorsero e ci furono momenti ad alta tensione, risolti poi dagli accordi tra Kennedy e Khrushchev che abbiamo già visto nel video sulla guerra fredda. Tuttavia l'anno successivo Kennedy nel 1963 verrà assassinato a Dallas mentre era nella sua auto insieme alla moglie Jacqueline da un uomo che si chiamava Lee Oswald. L'assassino del presidente Kennedy ha dato vita poi a tantissime teorie complottiste anche un po' strambe, ma c'è da dire che sicuramente ci sono alcuni misteri che ancora oggi rimangono irrisolti. Nel 64 anche Khrushchev si ritirò e gli successe Brezhnev che ritorna a una politica repressiva, poco riformista, però continua come il suo predecessore la politica della coesistenza pacifica. La guerra fredda però continuerà a fasi alterne con momenti di distensione per limitare l'uso delle armi nucleari fino ad arrivare agli accordi di Khrushchev-Regan e poi alla caduta del muro di Berlino del 1989.